Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di novembre 2022. Amici dell'Aquario abbiamo la carta del Papa, periodo di introspezione, periodo di magari anche elevazione spirituale per qualcuno. Quando c'è la carta del Papa si parla sempre di quello che è una crescita della coscienza, mi viene da dire. Il Papa è colui che canalizza i messaggi dall'alto, quindi può anche essere che per qualcuno qui inizi un nuovo tipo di comunicazione, diciamo così. E' anche una carta che parla di contratti, di ufficializzazioni e perché non per qualcuno di matrimonio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete semplicemente quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, dove c'è scritto altro, aprite la tendina e lì vi dice tutto. Allora, cominciamo con un 6 di spade al contrario, un 3 di denari al contrario, un 7 di spade e un re di denari. Wow, ragazzi, periodo impegnativo, periodo impegnativo perché qui vedo che con questo 6 di spade al contrario ci sarebbe la volontà di allontanarsi da una situazione o da qualcuno o anche semplicemente da delle idee, da un modo di pensare potrebbe essere perché comunque sono spade. Però essendo al contrario qui è come se ci fosse una sorta di difficoltà a muoversi. Qui abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, è come se non ci fosse un reale progetto per fare questo spostamento, un reale... mi sento un po' da soli, perché comunque avere il 3 di pentacoli al contrario mi dice che c'è qualcuno che non sta collaborando con voi. Il 7 di spade è una carta che parla molte volte di proiezioni, molte volte di bugie... sento che è un po' il vostro atteggiamento, di non essere completamente onesti con voi stessi, mi viene da dire. Ma considerato che abbiamo 6 di spade qui all'inizio, credo che... perché giustamente c'è 6 e 7 di spade, è la carta successiva, quella che potrebbe essere il condizionamento di cui parlavamo prima, il fatto di doversi allontanare da certe idee e qui un po' lo vediamo. Poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, così vi dico qualche cosa in più. Abbiamo poi questo re di denari in centro lettura. Qui fa riferimento o a un capo o una figura di potere, mi verrebbe da dire, perché comunque un re di denari può essere, ragazzi, anche per qualcuno, una figura magari di tipo legale, di tipo più... come vi posso dire... che abbia un ruolo specifico in questa seconda parte di novembre per voi. Di nuovo andiamo poi a vederlo con i mini tarocchi. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo una regina di coppe, se riesco a toglierla, ok? Un nove di spade. Quindi la regina di coppe potrebbe essere una persona che in realtà vi viene in aiuto. Wow! E due di coppe. Potrebbe essere una persona che appunto, come vi dicevo, vi viene in aiuto. Di solito fa riferimento a una persona che ha un atteggiamento materno, una regina di coppe, e quindi ha il cuore aperto, diciamo, è propensa verso gli altri. Forse anche un po' troppo, perché la regina di coppe è sempre quella persona che è un po' troppo immersa nelle proprie emozioni, ma è il tipico, diciamo, il tipico atteggiamento da madre accogliente. E qui vedo che c'è un nove di spade, quindi ci si accinge a dimenticarsi di quelli che sono stati i problemi, le bugie, le falsità, le proiezioni, perché potrebbero anche essere proiezioni, come vi dicevo prima, e si va verso un nuovo tipo di accordo, di unione. Guardate, avendo il papa e avendo il due di coppe, per qualcuno si tratta di ufficializzare la relazione, di iniziare una relazione come coppia, proprio. Per qualcun altro, invece, si può trattare di portare ad un passo successivo quello che è una... Sì, una relazione, mi viene da dire, perché qui sento che all'inizio del periodo è come se non ci fosse una reale progettualità, all'interno di questa relazione, che sia lavorativa, che sia familiare, che sia di coppia, è la stessa cosa. Semplicemente manca un progetto di base, adesso andiamo a vedere con i miei interocchi. Mentre verso la fine è un po' come se ci fosse di più un venirsi incontro, verso la fine del mese, diciamo così. Più o meno per darvi un'idea di tempo, poi sapete sempre che il tempo è fluido, quindi è relativo. Allora, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo, per chi non lo sapesse, che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023, o meglio, ho iniziato a pubblicare gli oroscopi del 2023. C'è un primo oroscopo che riguarda letture in modo generale, lettura delle energie in modo generale, e poi seguono altri oroscopi, uno per la crescita spirituale, che è già stato pubblicato, e altri due verranno pubblicati per l'amore e il lavoro, e sono un approfondimento della stesa generale. Ok, andiamo a vedere il 6 di spade al contrario. Abbiamo un fante di bastoni, due fanti, e un fante di coppe. Allora, qui si tratta di allontanarsi da una persona, che potrebbe anche essere stata un po' egoista, visto che abbiamo il fante di bastoni. Quindi, tendenzialmente potrebbe essere una situazione, una relazione non proprio matura, diciamo così, un po' campata in aria. Sento che qualcuno con questo fante di coppe potrebbe aspettarsi un movimento da parte dell'altra persona, o anche semplicemente un movimento, cioè una comunicazione che per qualcuno potrebbero essere scuse. Ok, guarda, si è girato anche l'otto di coppe. Sì, sento che... perché è di nuovo una carta di viaggio. Come se qui qualcuno stesse aspettando delle scuse, un movimento da parte dell'esterno. Mi viene da dire che è come se fosse un ultimatum, cioè o ne riparliamo o io me ne vado. O ritrattiamo o ci veniamo incontro. La sento una cosa un po' così. Andiamo avanti, vediamo questo 3 di... Ok. 4 di spade per il 3 di pentacoli al contrario. E 5 di spade al contrario. 4, 5, 6 e 7 di spade. Tante spade avete. Quindi sento che qui c'è proprio bisogno di comunicare qualche cosa. Le spade io le sento collegate al quinto chakra, alla comunicazione proprio. Ma qui ragazzi c'è bisogno di riprendersi un attimino le forze perché abbiamo un 4 e un 5 di spade. Il 4 di spade è una carta che mi parla di una sorta di ritiro spirituale. Può anche per qualcuno fare riferimento ad andare in una clinica o per disintossicarsi o per riabilitarsi o semplicemente può anche essere un seminario, ipotesi di introspezione spirituale. Cioè non è detto che sia per forza una clinica, ok? Il 4 di spade è un posto dove si va per recuperare le energie. E qui direi che più che energie fisiche si parla di energie mentali perché abbiamo un 5 di spade al contrario. E sento che molte persone a questo condizionamento qua ce l'hanno molto forte. Qui c'è una sorta di confusione mentale. E ha senso perché io poi dopo vedo questo 7 di spade che anche qui parla di bugie. E le bugie insomma confondono. Andiamo a vederlo. Asso di coppe. 10 di coppe al contrario e 7 di pentacolo. Io credo che qui qualcuno vi abbia raccontato delle storie per quello che riguarda l'inizio di una nuova relazione o un innamoramento o una famiglia o quello che potrebbe essere una gravidanza il fatto di avere dei figli insieme o cose di questo genere. Oppure siete voi che avete determinate proiezioni su come dovrebbe essere una relazione su come ci si dovrebbe innamorare su come ci si dovrebbe sentire Se fosse una situazione di lavoro qui è una vostra proiezione su come gestire il gruppo su come devono andare le cose Andiamo a vedere questo re di denari Abbiamo un'altra regina di coppe girata al contrario e il mondo E' un po' come se vi dicessero di cambiare attitudine Datemi un'altra carta per la regina di coppe al contrario Un'altra regina questa volta di denari E un 8 di pentacoli Allora io credo che qui ragazzi il discorso sia che non vi sentiate abbastanza potenti a livello economico Per fare voi questo tipo di cambio di progettualità Perché qui ripeto manca il progetto Ce la voglia di fare un viaggio Ma non vi sentite nel vostro potere personale Avete due carte di pentacoli Comunque girata al contrario Comunque sono tutte in centro lettura Andiamo a vedere questa regina di coppe Ma qui ho idea che ci sia da fare un lavoro su quello che è il bambino interiore Cioè togliersi da queste proiezioni Quando c'è 6 di spade Parla di qualche cosa Cioè normalmente è una persona che si lascia indietro La propria infanzia La bambina che è raffigurata Rappresenta l'infanzia E quindi il fatto di lasciarsi indietro Quel periodo di condizionamenti mentali Per andare verso nuovi Nuovi mari più calmi E nuovi pensieri Ah no era il contrario E nuovi pensieri più calmi Più amorevoli Nei vostri confronti Qui abbiamo una regina di coppe Bisogna diventare madri di se stessi Ok? E' un po' come se doveste imparare A incoraggiarvi da soli Ad approvarvi da soli A perdonarvi anche Andiamo a vedere questa regina di coppe 10 di spade al contrario E 3 di coppa al contrario Sì ripeto Il 10 di spade Che è la carta della fine della sofferenza E al contrario Ci si sta accingendo A chiudere questo periodo di sofferenza Qui avete anche il mondo Quindi c'è proprio bisogno Di questo cambio Mi verrebbe da dire Anche un po' a 360 gradi Non solo di mentalità Ma anche di residenza fisica Può anche essere semplicemente La rottura di un'amicizia Mi viene da dire Rottura perché? Perché qui il tra di coppe È al contrario Quindi in un certo senso O c'è questa figura Che può essere una vostra amica Che non vi appoggia O può fare riferimento Al fatto che dobbiate migliorare Il vostro modo di rapportarvi A voi stessi Il vostro modo appunto Di essere madri Di voi stessi O può essere anche appunto La partner È una figura Diciamo Di una certa autorità Che non vi appoggia In realtà vi dico La regina di coppe È sempre quella Quell'energia un po' materna Però vedendo queste due carte Qui al contrario È un po' come se Magari per qualcuno Bisogna diventare più amici Di se stessi O più amici di questa persona Della propria madre Insomma Mi parlano di perdono Andiamo a vedere Il nove di spade Tre di spade Al contrario E otto di bastoni Sì Qui questo tre di spade Io lo sento collegato A questo sei Di spade Ragazzi Quindi Può facilmente essere Che sia una situazione familiare Che in qualche modo Vi ha Vi ha ferito Dieci di spade È la fine Del ciclo Diciamo Mentre il tre di spade Quando la ferita È ancora aperta Ma Qui in realtà Avendo il nove di spade Sento che Siete già Alla fine del periodo Però C'è ancora Questo ricordo Del dolore Perché Perché non si comunica Quando c'è un otto di bastoni Al contrario Perché c'è bisogno Di comunicazione C'è bisogno Di portare fuori Questo dolore Dovete Dire Al mondo esterno Quanto vi ha fatto star male Quella cosa lì O quella situazione lì Insomma Gli altri devono Sapere Il vostro disagio No Ok Andiamo a vedere Il due di coppe Regina di spade E asso di spade E asso di spade Al contrario Sì Di nuovo È un nuovo modo Di porsi La regina di spade Arriva per tagliare Quello che non serve più Manca ancora La comunicazione Lo sento proprio tanto Perché abbiamo Queste due carte Al contrario Però perlomeno Avere un'idea Dentro di voi Di come dovrebbero essere Gestite le cose Regolarizzate Le cose Ecco Secondo me Secondo me Arriva Vi dico In realtà Con questo due di coppe È come se ci fosse Un nuovo tipo di compromesso Magari non è ancora Chiaro Come iniziare Ma è chiaro Quello che bisogna tagliare Quello che non si vuole più Quello che si vuole Lasciare indietro Guardate In realtà So che è al contrario L'asso di spade Ma c'è Anche il mondo È in centro lettura Però c'è Quindi c'è Una sorta di inizio Di Di un nuovo tipo di Confronto Mi viene da dire Va bene Andiamo a vedere un oracolo E poi E poi andiamo a vedere Un messaggio da parte Dell'universo Vediamo Che consigli Vi voglio dare Per gli amici Dell'acquario 4 di pentacoli Mi viene da dire Attaccamento Sì ragazzi Lo sento qui Bisogna staccarsi Da certi condizionamenti mentali Perché Questa carta è molto rappresentativa Devo dire Pensate a quando un ragno Fa la ragnatela E a quando Un insetto cade Nella sua ragnatela Quando questo insetto Cade nella ragnatela Che si sente legato Si divincola Per cercare di liberarsi E più si divincola Più resta incastrato In questa ragnatela Quindi qui sento che C'è da tagliare Qualcosa Di netto Andiamo a vedere Un ultimo messaggio Da parte dell'universo Vediamo Che cosa Vi vogliono dire Il mio coraggio Wow ragazzi Il mio coraggio Ha il potere Di girare Di trasformare Il trauma In guarigione I conflitti In crescita E la paura In amore Wow E' bellissimo Questa carta E poi abbiamo Quando penso Di aver lasciato andare Lascio andare Di più E qui avete Attaccamento Ok Cari amici Dell'acquario Questo è quello Che ho per voi Spero che la lettura Vi sia stata utile Se sì Potete mettere Un like Se volete supportare Il canale Potete anche Iscrivervi Commentare Condividere Lasciare una donazione Ogni tipo di supporto Per me E' importante Io vi ringrazio Di essere stati qui con me Vi mando un abbraccio Ci vediamo Nei prossimi video Ciao ciao